Ciao a tutti, vediamo come scaricare e installare Discord su PC, è abbastanza facile, ci basta scrivere Discord download su Google, vedeteci compare subito, noi clicchiamo, questo è il sito ufficiale Discord, credo che si veda, e noi qua abbiamo scarica per Windows, eccoci qua, altro? Sì ok, c'è iOS, Android, Linux, Mac, insomma tutto quello che vi serve, in questo caso io sono da Windows, scarico e ci vediamo appena finito. Benissimo, eccoci qua, completato il download di Discord, facciamo partire, eccoci qua, sta cercando l'account, ci chiede chiaramente di effettuare il login oppure creare un account, a sto giro ne creo uno nuovo, quindi metto quelli che sono tutti i dati e poi ci vediamo dall'altra parte. Se voi dovete, se voi dovete creare un account, fate anche voi così, altrimenti semplicemente limitatevi al login. Perfetto, sta creando un account, dobbiamo solo dirgli che sono un essere umano e non siamo dei bot. Aeroplani che volano a destra, ok, quindi uno, due, tre, che volano chiaramente, quindi ok, sta andando ed eccoci qua su Discord, quindi abbiamo creato il nostro account, scaricato e installato, e adesso ci chiederà di andare a cercare, di andare a creare un server, ma questo lo vediamo in un prossimo tutorial. Un'altra cosa che ci chiede è di controllare l'email per verificare l'account, quindi vado ad aprire Gmail, eccola qua la mail, verifico, e noi ci siamo, continuo su Discord, apri con Discord, let's go, eccoci qua. Quindi, tutto verificato, adesso quello che dobbiamo fare è unirci ad altri server, di amici o quelli pubblici, questi sono quelli pubblici, eccoli qua, oppure creiamo il nostro server, ma lo facciamo nel prossimo video. Quindi, vi ringrazio per essere rimasti con me, se avete altre domande lasciate sotto un commento, noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!